Giornata pesante sul fronte dell'infortunistica stradale, quella di oggi per Fano. Due incidenti potenzialmente molto pericolosi e che hanno visto ancora una volta coinvolti motociclisti ed automobilisti si sono verificati nell'arco di poche ore l'uno dall'altro. Il primo, il più grave, si è verificato attorno alle 10.35 lungo la statale 16 in Viale Romagna all'altezza del distributore di carburante IP. Qui uno scooter 300 che viaggiava in direzione Pesaro condotto da un fanese del posto di 36 anni si è violentemente scontrato contro la fiancata sinistra di una Fiat 500 L condotta da un uomo di 89 anni residente a Fano che si stava immettendo sulla statale in uscita dall'area di servizio. Le esatte dinamiche però sono ancora in fase di accertamento da parte della divisione infortunistica della polizia locale di Fano che visionerà anche le telecamere poste sul distributore in quanto all'arrivo delle pattuglie sia gli automezzi che il ferito erano stati rimorsi dalla sede stradale e parcheggiati nel distributore e l'infortunato già sotto le cure dei sanitari del 118 che valutate le condizioni di salute lo hanno fatto trasferire in eliambulanza atterrata nel campo adiacente al centro politraumatizzati dell'ospedale di Torrette di Ancona dove è stato ricoverato in osservazione le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Anche l'anziano conducente in forte strato emotivo è stato trasportato al 118 al pronto soccorso di Fano per accertamenti pur non avendo riportato in apparenza danni fisici. Alle 12.40 un altro motociclista è finito violentemente a terra cadendo dalla sua BMW 1200 in via Fraghetto all'incrocio con via del Ponte, incrocio già noto per essere stato teatro di altri incidenti, per essere entrato in collisione con un'auto, una Hyundai condotta da una residente di Fano di 52 anni. Il centauro, anch'esso fanese di 43 anni, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato per accertamenti al Santa Croce di Fano. Le sue condizioni comunque non dovrebbero essere gravi. In entrambi gli scenari sono arrivati sul posto diverse pattuglie della Polizia Municipale che oltre ai rilievi di legge sono stati impegnati principalmente anche sulla Statale 16 a regolare la viabilità evitando così lunghe code e rallentamenti in orari di punta.